ciao ragazzi io sono red e oggi parliamo di bolt quello che andremo a fare oggi è una bellissima panoramica su bolt perché tutti quanti conosciamo crytac tutti quanti conosciamo vfc tutti quanti conosciamo evolution gg e via discorrendo ma un player di questo mercato di cui si parla veramente poco ed è un gigantesco peccato è bolt e quindi noi andremo a parlare di bolt e continuare a dire bolt perché fa ridere quindi attaccatevi prima di partire come al solito sigla come dici non avevi ancora visto nessuna di queste due repliche beh forse dovresti fare un giro da monopoly software shop il nostro negozio di software che offre attrezzatura militare ovviamente airsoft e tanto altro a ottimi prezzi link in descrizione e ovviamente veniteci a seguire anche su instagram perché lì che pubblichiamo la maggior parte di questa roba bene 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 bolt perché parliamo di bolt beh parliamo di bolt perché è una delle pochissime compagnie produttori aziende chiamatele come volete che fanno repliche da airsoft che viene veramente pisciata la maggior parte delle persone il che è un peccato tutto quello di cui parleremo oggi è bolt italia ovvero c'è una divisione di bolt dedicata a lavorare in italia questa non è una cosa da poco perché pochissime altre compagnie hanno qualcosa del genere quindi primo grande punto a vantaggio di bolt il secondo punto invece che producono repliche da software estremamente fedeli alle originali l'unico altro player che faceva delle robe simili era vfc ma purtroppo temo che sia stata ampiamente superata ampiamente gli tengono molto bene testa terzo ed ultimo punto il sistema brss no ss non stavo cercando di fare una gag su questo sistema vuole semplicemente dire rinculo simulato quindi avete delle repliche da software con un sistema ebb electric blow back quando andate a sparare il fucile rincula tra i vari produttori che fanno repliche da software rinculanti a nostro parere bolt è la migliore rispetto a tokyo marui e l'onex che sono tra i pochissimi produttori di sistemi rinculanti elettrici bla 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 bolt nell'ultimo periodo si è migliorata tantissimo sotto questo punto di vista infatti il sistema brss va a ottimizzare e risolvere una marea di problemi che ci sono stati in passato i punti sono sostanzialmente tre uno il rinculo dei fucili bolt è quello che più si avvicina ai modelli gbb che sono poi quelli che più si avvicinano al rinculo di un'arma vera benché ci sia un gap che esce dallo schermo secondo punto il rinculo volt è stato ottimizzato sempre di più e continua a venire ottimizzato man mano che andiamo avanti con gli anni questo permette di avere una compagnia che continua a sfornare degli aggiornamenti sul loro sistema che tra l'altro è compatibile con la maggior parte di altri componenti quindi non è che se avete un fucile bolt potete montare potete andare a modificare esclusivamente con componenti bolt come avviene con tokio marui il brss rispetto infatti agli sre marui o il bao della lonex ha come unico componente rinculante il fatto che c'è una massa battente attaccata al pistone che quindi fa avanti indietro questo significa che il gearbox v2 mantiene la maggior parte dei componenti originali quindi all'interno troviamo un gearbox v2 puro con quello che trovate normalmente in fucili non rinculanti che quindi può essere andata a modificare con quello che vi pare fatta eccezione per componenti rinculanti presenti all'interno che quelli devono essere bolt terzo e ultimo punto lo so che la maggior parte di voi ha un ricordo di bolt del tipo a sono andato a giocare in campo col fucile bolt e adesso il tuo fucile dov'è niente mi è rimasto solo il motore perché i pezzi li ho persi per strada vogliamo confermare che questo problema di componenti che si vanno ad allentare visto il rincurlo della replica non ci sono più è bello i meme fanno ridere ma bisogna anche lasciarli andare a una certa bene ci hai spaccato le palle per tre ore e mezza parlandoci di quanto è bello un sistema di rinculo ma a me cosa me ne frega perché dovrei prendere questa linea di repliche io voglio contenuto dammi il contenuto ci sta anche io non mi fiderei semplicemente dei fatti andremo quindi adesso a vedere tutti i modelli che ritengo più validi comprese due linee essenziali per quelli di voi che come me adorano il realismo e le scocche fatte bene ma veramente bene e un paio di modelli extra che io ritengo veramente interessanti compresi un paio di cose che non ci sono piaciute per cercare di mantenere la recensione il più oggettivo e onesto possibile vediamo i modelli che preferisco partendo dalla piattaforma mk 18 questo è veramente fantastico oltre che essere logato dappertutto con difesa di daniele daniel defense loghi daniel defense sono incredibili come lo è questo paramano ovviamente ovviamente logato anche sul paramano calcio originale bolt mettiamo eccolo lì non mi fa impazzire un po plasticone c'è da dire che si incastra perfettamente nella spalla e non balla stessa cosa vale per il paramano e ogni elemento su questo affare veramente incredibile e il selettore di fuoco scatta perfettamente tic 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 boom un'ottima piattaforma soprattutto se ti amanti del realismo vediamo gli altri fratellini ma tesoro mi hanno incastrato per aver tentato di ammazzare l'arlecchino questi sono i due modelli un pochino più corti veramente molto vediamo se riesco a fare wow incredibile questi sono la versione mod 1 sono veramente fatti bene vediamo quello veramente fatto bene carinissimo questo qui fils mv1 tutti i loghini molto ben fatti compreso quello difesa di daniele li troviamo poi anche sul paramano e in aggiunta anche l'impugnatura che tocco di classe in più calcio sempre bello inchiodato come qualunque altro componente per gli amanti dello stabby abbiamo poi ovviamente la versione pdv di dm4 che tra l'altro ha segnato proprio qui 300 blackout perché giustamente essendo pdv spara più arrabbiato mi piace molto di più questo stile di calcio personalmente per quanto questa parte qui sia leggermente plasticosa ma a me piace il modello abbastanza slim quindi insomma sono un po di parte da questo punto di vista ovviamente troviamo i loghi da tutte le altre parti sempre su licenza di una del defense è molto carino perché è una versione un pochino più iberta per gli amanti degli stabbi o comunque pdv fucile a corto insomma da 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 gmk 18 mod 1 e mod 2 sono vecchi non li vogliamo la me serve qualcosa di nuovo scoppiettante al passo con i tempi ecco che come il martello di ettoni apparirà in mano Urgi C'è ovviamente anche il modello Sniper Grey Che personalmente è veramente molto figo L'avevo recensito qualche tempo fa Recensiamo tutti i bolt, cosa vuoi che sia E infine il modello FDE Che sta per OI Sono disponibili anche ovviamente nelle versioni più corte Ma ne abbiamo già parlato, le trovate ovviamente linkate in descrizione Troviamo pressoché le stesse caratteristiche incredibili Che avevamo sull'altro Un paramano veramente ben fatto Veramente inchiodato, bloccato Su il castello inferiore E in realtà è solo il castello superiore Sul castello superiore È veramente comodo, soprattutto io adoro il fatto che sia leggerissimo Perché questo tipo di paramano stile gaisili Sono veramente incredibili Trovo anche che qualunque altra cagatina Sia stata fatta perfettamente Anche la leva d'armamento Il selettore di fuoco Scatta come un orologio Tasti di sgancio e tutto sono fatti Veramente molto bene Ragazzi sono delle cose incredibili E personalmente questo calcio è incredibile Cambia su ogni modello Ma questo per me è uno di quelli più belli Anche un po' più nuovo, più particolare Abbiamo la BD Bolt Veramente ben fatto Impugnatura, stile M4 che io adoro Benché non sia la più moderna E ovviamente questi loghi ragazzi Subito seguiti da l'attacco del paramano Fatto in maniera incredibile È uno dei paramani più belli mai realizzati Chi dice il contrario Visto che so che siete golosi Questo è il modello corto Perché Merita di essere visto lo stesso Visto che la montanità stufa Eccovi anche il BR-47 Sempre Volt Sempre BRSS Per cambiare un po' Una piattaforma M4 Con caricatori da AK-47 Da qui il nome BR-47 Soprannominato il Cobra Perché Troviamo il pattern Sul paramano Che ricorda le Scaglie Squame Scaglie o squame il Cobra? Sai che è il Cobra? Del Cobra Tra l'altro ha poi la boccuccia Tipo Un modello molto particolare Insomma Che mette d'accordo Amanti di R-15 E AK-47 Oppure nessuno dei due Insomma Dipende dai punti di vista Infine Giusto perché è opportuno Dare a tutti quello che vogliono Un bel AK-74 Tactical Assault System Non si chiama assolutamente così Tactical RIS Black La cosa più figa è che Guardate che bella questa patch Cioè Questa è veramente figa Se siete russeggianti Molto bello il RIS Che sinceramente Va a innovarsi Mantenendo quell'elemento Comune Ovviamente A la piattaforma K E un altro elemento Che mi è piaciuto Veramente tanto Dopo questa impugnatura Veramente carina Veramente ben fatto Che grippa bene È questo calcio Che è molto molto bello Lo stesso che avevamo visto Sull'Urgy FD Belli eh Più modelli Di quanti ne posso contare Prima di procedere Alle conclusioni finali È essenziale Chiamare Lui Eh lo so Preparatevi Io ho preso lui Lui perché L'Urg Sniper Grey È qualcosa di Sessualmente Attivo Beh ma troviamo gli difetti In realtà Costruttivamente Non ne ha È più un difetto Di concezione Qual è il difetto Di concezione Che noi sì Lo dobbiamo Andare a modificare Certo Possiamo usare i componenti Del Gear V2 Classico Ma Avremmo comunque Anche disattivando Il rinculo La massa battente Che effettivamente Ci andrà a occupare Il nostro calcio Cosa vuol dire Che non possiamo Smontare lui E mettere le batterie Dentro al tubo Perché il tubo È pieno Quindi Dobbiamo continuare Nonostante L'assenza del rinculo A mettere le batterie In questo caso In questa parte nera Obbligandoci A dover mettere Un eventuale calcio istitutivo Con vano batteria Laterale Poco male Sì Anche se effettivamente Chi va a comprare Questo tipo di fucili Estremamente realistici Di pippate estetiche Ne ha fin troppe A me personalmente Non darebbe troppo fastidio Assolutamente imperdonabile Invece Il caricatore Il caricatore Su quasi tutte le repliche È qualcosa di davvero scandaloso Sono rimasti davvero indietro Con i polimeri lucidi Vi giuro Sembra un gioco della chicco È qualcosa di indecente Anche Il rumore che fa Compratevi dei caricatori decenti Perché quelli di serie Non vanno affatto bene Il problema non è soltanto Del signorino che ho in mano Infatti Si ripercuote su quasi Tutta la serie Anzi Le serie Abbiamo qui Quello del BR-47 Ragazzi Cioè È proprio brutto È proprio brutto Non ha un peso specifico No I caricatori bocciati Tra l'altro Mettere i maggiorati Su un fucile così costoso È davvero Una porcata Per finire di demolirlo L'ultimo Lato negativo E qui sorprendo anche a Rebbe Che non se l'aspettava È L'attacco L'attacotamia Su un fucile Di questa fascia Nel 2024 Credo sia davvero Una bestemmia Non si può fare Ormai le batterie prestanti Ci hanno tutte quante Il DINZ E un cavlaggio in argento Vi prego Bolt Sistemate questa cosa Sono difetti gravi? Intanto ho cambiato fucile? No Dobbiamo dirli Warrage serve a questo Forse il primo Forse il primo vero Warrage Che faccio da un bel po' di tempo Comunque Non vanno a togliere Alla replica Il suo vero sapore Qual è il concetto? Voi state comprando Un fucile Essenzialmente Pronto Con quel qualcosa in più Quel qualcosa in più È il rinculo Che vi dà davvero Quel sapore in più Che va a giustificare Effettivamente Una cifra Così alta Va bene Basta parlarne bene Perché mi togli il lavoro E siamo arrivati Alle conclusioni finali E ci sono tante cose da dire Tanti punti da tirare Tanti elementi di cui parlare Quindi partiamo E sarò il più brenso E veloce possibile Prima cosa che mi sento di dire È che l'unico altro competitor Che a mio avviso Bolt ha Togliendo Marui dall'equazione Che è un mondo a parte È VFC E a mio avviso Sono molto meglio di VFC E vi dico anche perché Punto 1 Il costo tra questi modelli VFC È praticamente lo stesso Fatta eccezione È che gli interni Dei prodotti Bolt Sono molto più curati Di quelli VFC Questo per un semplice fatto Avendo un sistema Rinculante all'interno Non ci si può mettere dentro Robetta Motori da 32.000 giri Cane di precisione 601 602 603 Ingranaggi MIM O PAP E chi ne ha Ne metta Tutti questi sono elementi Che su un VFC Non sono scontati Anzi Ovviamente non si vuole Sputare su VFC Ma semplicemente VFC non ce li metti dentro Perché non c'è il riculo In più abbiamo 11.1 di serie Già direttamente Dentro la replica Questo non è una roba Da sottovalutare Perché a differenza Di un VFC Che lo comprate E dovete subito Metterci le mani dentro Se volete avere un fucile Abbastanza prestante Qui non serve Lo usate per uno o due annetti E poi lo andate a modificare Un altro punto importante È che questo tipo Di repliche Sono ovviamente Pensate e puntate A quelli di voi Che vogliono comprare Un fucile da usare Magari in torneo E quindi vogliono Andarlo a modificare Beh questo si può fare Sono fucili Che andati a modificare Anche a livelli alti Possono competere E permettere di giocare Veramente molto bene Anche in tornei Molto arrabbiati L'unico punto Come ha detto War È che avete la massa battente All'interno del tubo del calcio E quindi sarà poi necessario Utilizzare dei calci Come vi vengono forniti Di serie Dove potete mettere Dentro le batterie Questo è l'unico impedimento Della situazione Ultimo punto Gli esterni Ragazzi Avere degli esterni Così ben curati Senza dover andare Su UFC Che tra l'altro Tendono a Loccarsi insieme In maniera migliore Quindi ad avere meno giochi Per me è impagabile Punto Senza altro da dire Direi che possiamo Terminare qui So che molti di voi Avranno delle altre domande Vi invito quindi A controllare in descrizione Perché potete andare Sulle pagine Di tutti i modelli Che avete visto nel video E vedere direttamente Tutti i modelli Bolted Che disponiamo Perché era impossibile Farvi vedere tutti Se avete ulteriori dubbi Su uno specifico modello E mi raccomando Lasciate un commento Non solo perché ci aiuta Ma perché possiamo rispondere I vostri dubbi E discuterne So che molti di voi Urleranno ai venduti Ma siamo semplicemente Diventati fan di Bolted Non ce li regalano Quindi Vi ricordo inoltre Di venirci a seguire Su Instagram E di controllare Il canale secondario In cui pubblico Un sacco di robe Interessante Sul mondo tattico Che potrebbe interessarvi Così siete connessi A 360 gradi E ovviamente TikTok Eh sì C'è anche TikTok Detto ciò io vi ringrazio Di essere stati qui con me In questo splendido sabato Vi auguro di giocare a Softair Vi auguro soprattutto Una buonissima Pasqua Giocando a Softair Sempre E come al solito Stay angry Non funzionato Ma va bene Dovete stare zitti Se no non viene Ciao ragazzi Io non mi veniva Perché mi scappava da ridare Ho 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 Grazie.